Sarà del Parma il primo possesso di questa sfida e si inizia, rotola il pallone sullo stadio Il Noce, è cominciata Parma contro Arezzo Qui Williams con un buon anticipo, non altrettanto buono il lancio Holzer deve uscire, è anche ostacolato la sua compagna Palla che rimane lì di Stefano, non riesce nel tap-in Tutte le giocatrici del Parma sulla zona sinistra per poi staccarsi Palla dentro, a cercare il secondo palo La deviazione con l'arriva di Ambrosi per la buona uscita da parte di Holzer Ma ancora Parma che insiste con Di Stefano che prova l'uno contro uno Cross interessante, esce Holzer, palla che rimane lì E la sblocca per l'1-0 Parma e avanti le giallo-blu La rete di Nichele che prova a batterla subito, a cercare l'effetto sorpresa Palla dentro, a cercare il suo secondo palo l'inserimento da parte di Di Stefano Farla fuori, Masu, palla deviata, non poi definitivamente allontanata E allora uno contro uno con Tuteri, prende le vie centrali Williams andando sul piede forte, il destro anche se adattata a sinistra Poi la conclusione è alta sopra la traversa, brivido Questo servizio sulla sinistra per Di Stefano che può andare anche all'uno contro uno Va a puntare imprezzabile, sceglie il lato destro Cross un secondo palo un po' lungo, difficile da gestire Anche il vento cambia la traiettoria e la sfera, la tiene viva Silvioni Poi con Guli, con questo tiro cross attraverso tutta la porta Con Silvioni alla battuta, sempre Di Stefano posizionata al limite dell'area di rigore La battuta di Silvioni, interessante, arriva Masu Ancora una volta a chiudere il Parma, Lico a riproporre In avanti, battuta profonda, cercare Razzolini Che mette dentro, facile, parata da parte di Capelletti Primo pericolo offensivo del Arezzo Proprio in chiusura di questo primo tempo Arriva ora il duplice fischio del direttore di gara Squadra di spogliatoi sul risultato di 1-0 Lascia a ragionare neanche un secondo Diaz e ripartenza ora Parma Con Guli in area di rigore C'era sul mancino Con Guli la deviazione Poi decisiva e provvidenziale Prova a tenere vivo l'attacco all'Arezzo Con Lorieri che ripropone in avanti la testa di Nichele E in qualche modo Ambrosi dopo il rimbalzo Però rimane il pallone in quella zona Carcassi atterrata Calcio di rigore per l'Arezzo La sfida tra numero 97 e numero 1 Razzolini incrocia E pareggia per l'Arezzo 1-1 al trentesimo La rimessa in parità La formazione ospite Sette saltatrici per il Parma Battuta dentro Bail rimane lì Non riesce il Parma Poi per far spazio poco fa A Lunghi Lancio lungo Di Stefano Premiata Ingresso in area Da un'occhiata dentro A Rimorchio Che c'è Benedetti col mancino murato Palla che rimane lì Bail sulla linea Salvataggio clamoroso di Tuteri Salvataggio clamoroso dell'Arezzo Mettere una leggera pressione Prova Blasoni l'anticipo Spallata di Di Stefano regolare E lancio lungo per Di Luzio Che entra in area di gore Se la porta sul mancino Di Luzio passa Atterrata Calcio di rigore Per il Parma Conquistato da Di Luzio E ora la possibilità Sul dischetto Fisca il direttore di gara Bail Incrocia E il Parma che torna avanti 2 a 1 Segna Vivian Bail Lorieri Traiettoria però smorzata dal tocco di Di Luzio Bail Pallone in avanti Tentativo dentro Ingresso in area di Stefano Per chiuderla Di Stefano Olzer cosa ha preso La difende Poi si appoggia su Bail Atterrata E arriva il triplice Fischio Può esultare il Parma Vince Batte l'Arezzo 2 a 1 E sale al terzo posto in classifica Raggiungendo il Cesena A quota 55 Punti In classifica